Per un ripicco, per un puntiglio, aveva dunque fatto scatenare un meccanismo in cui era rimasto come intrappolato. E questo si può senz'altro ammettere, che si sentisse ormai intrappola, nella trappola di una normalità che lo costringeva ad andare avanti, a pubblicare, a tenersi a quel livello di chiara fama per cui era stato chiamato alla cattedra, a fare insomma, con regolarità e continuità, quello che aveva sempre cercato di evitare e negli ultimi anni decisamente evitato, come per una definitiva rinuncia. Certo, sentiva anche il disagio di dover insegnare, parlare, comunicare, esporsi, ma dalle lettere ai familiari e dai ricordi della sorella e di chi in quel periodo lo avvicinò, non pare che l'insegnamento gli desse particolari traumi. La sua vita a Napoli, in quei primi tre mesi del 1938, si svolge tra l'albergo e l'istituto di fisica. Con Carrelli, direttore dell'istituto, dopo la lezione si intratteneva lungamente, parlando di fisica. Benché evitasse di parlarne, anche per accenni, Carrelli aveva l'impressione che stesse lavorando qualcosa di molto impegnativo, di cui non desiderava parlare. Faceva qualche passeggiata solitaria sul lungomare e si dedicava alla ricerca di una pensione a cui trasferirsi dall'albergo. Stranamente, nonostante i buoni indirizzi che dice di aver avuto e nonostante il 22 gennaio annuncia alla madre del suo prossimo trasferimento dall'albergo alla pensione, pare non riuscisse a trovarla, se in febbraio lascia l'albergo Terminus per il Bologna, più pulito, più confortevole. E qui insorge il nostro primo dubbio, il nostro primo sospetto, che appunto in gennaio l'avesse trovata e che da allora, preparandosi a scomparire, tra la pensione e l'albergo facesse doppia vita. Perché la sua scomparsa, noi, la vediamo come una minuziosamente calcolata e arrischiata architettura. Il fatto è che lui, da morto o da vivo, nel suicidio o nella fuga, voleva scomparire. Ma andiamo per ordine. È da notare intanto che per le due lezioni settimanali che teneva all'università, lo stare a Napoli non era poi necessario, considerando che aveva casa a Roma. Indubbiamente lo stare in albergo, più solo di quanto non riuscisse ad essere in famiglia, gli piaceva. A Napoli aveva fatto un altro passo verso la compiuta solitudine cui aspirava. Gli ne restava da fare un altro ancora, definitivo. A questo passo, a risolverne le difficoltà e ad assicurarsene l'esito, crediamo abbia meditato lungamente. Quasi certamente apocrifa, la frase che si attribuisce a Bocchini, i morti si trovano, sono i vivi che possono scomparire, si attaglia perfettamente al caso, ma con l'aggiunta che soltanto i vivi intelligenti possono scomparire senza lasciar traccia o, lasciandone inevitabilmente qualcuna, fare previsione giusta, esatto calcolo, dell'errata valutazione che ne faranno gli altri e di come maldestramente sarà seguita. La sera del 25 marzo Ettore Majorana partiva col postale Napoli-Palermo alle 22.30. Aveva impostata una lettera per Carrelli, direttore dell'Istituto di Fisica e una ne aveva lasciata in albergo indirizzata ai familiari. Perché non avesse impostato anche questa era facile capirlo. Aveva calcolato come si dovevano svolgere ed effettivamente si svolsero le cose e in modo che i familiari ricevessero non brutalmente la notizia, ma per gradi. Le lettere sono già note, ma crediamo sia necessario rileggerle. Quella diretta a Carrelli. Caro Carrelli, ho preso una decisione che era ormai inevitabile. Non vi è in essa un solo granello di egoismo, ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Anche per questo ti prego di perdonarmi, ma soprattutto per aver deluso tutta la fiducia, la sincera amicizia e la simpatia che mi hai dimostrato in questi mesi. Ti prego anche di ricordarmi a coloro che ho imparato a conoscere ed apprezzare nel tuo istituto, particolarmente asciuti, dei quali tutti conserverò un caro ricordo, almeno fino alle 11 di questa sera e possibilmente anche dopo. Che vuol dire non vi è in essa un solo granello di egoismo? La frase sta lì, netta, senza equivoci, eppure finora come in una specie di invisibilità. È poi da notare l'ambiguità in cui si colloca quell'ora, le 11 di questa sera. E perché poi quell'ora precisa? E non era l'ora meno indicata per attuare sul piroscafo Napoli-Palermo il suicidio? Partendo alle 22.30, alle 23 il piroscafo era ancora nel golfo di Napoli, ancora in vista del porto, delle luci della città. E i viaggiatori tutti sopra coperta, i marinai tutti in movimento. Un uomo che si butta in mare a mezz'ora dalla partenza di una nave rischia, se non di essere salvato, di essere visto. Possibile che Majorana, se davvero avesse avuto l'intenzione di suicidarsi, non sapesse calcolarlo? Ci deve essere, in questo numero, 11, un qualche mistero, un qualche messaggio. Forse un matematico, un fisico, un esperto di cose marittime, potrebbero tentare di decifrarlo. A meno che Majorana non l'avesse messo lì a punto perché si credesse a un'intenzione, a un messaggio. E per un po' noi abbiamo creduto che lui avesse calcolato l'ora in cui, per i movimenti del mare nel golfo di Napoli, il suo corpo non si sarebbe più ritrovato. Abbiamo visto altre lettere di suicidi e in tutte c'è, anche nella grafia, un'alterazione più o meno forte, sempre. Un che di scomposto, di cantico. Nelle due di Majorana c'è invece un ordine, un preordine, una compostezza, un gioco al limite dell'ambiguità che non possono non essere voluti, conoscendolo come ormai lo conosciamo. Anche la parola scomparsa, in luogo di morte o fine, crediamo che sia stata usata perché venisse intesa come eufemismo mentre non lo era. Ed ecco la lettera, se lettera si può chiamare, ai familiari. Ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero. Se volete inchinarvi all'uso, portate pure, ma non per più di tre giorni, qualche segno di lutto. Dopo ricordatemi, se potete, nei vostri cuori e perdonatemi. Carrelli non aveva ancora ricevuto la lettera quando un telegramma urgente di Majorana, da Palermo, lo pregava di non tenerne conto. Ebbe poi la lettera, capì il senso del telegramma, telefonò a Roma, ai Majorana. Gli arriva poi un'altra lettera da Ettore, da Palermo, su carta intestata del Grandotel Sole. Caro Carrelli, spero che siano arrivati insieme, il telegramma e la lettera. Il mare mi ha rifiutato e tornerò domani all'albergo Bologna, viaggiando forse con questo stesso foglio. Ho però intenzione di rinunziare all'insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ebseniana, perché il caso è differente. Sono a tua disposizione per ulteriori dettagli. La lettera è del 26 marzo. Secondo gli accertamenti della polizia, la sera dello stesso giorno, alle 7, Majorana si imbarcò sul postale per Napoli e a Napoli sbarcò l'indomani, alle 5.45. Ma noi abbiamo qualche dubbio. E non nell'ipotesi che si sia gettato in mare nel viaggio di ritorno, ma nell'ipotesi che non sia salito sul piroscafo la sera del 26 a Palermo.